La musica per questa sessione sarà offerta da un coro multiculturale composto di membri che risiedono nel nord dell'Oiuta. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Hawks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 193esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e coloro che ci seguono via satellite, in televisione, per internet o radio. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro multiculturale composto di membri del nord dello Utah, sotto la direzione di Alyssa Jenks e Casey Bradbury, con Linda Margaret e Joseph Peoples, all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Sei la Rocca di Salvezza. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Moises Villanueva dei Settanta. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Dushku a servire come 70 autorità generale. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Inoltre, esprimiamo apprezzamento per i due 70 diaria rilasciati, i cui nomi potete trovare sul sito della Chiesa. Coloro che desiderano unirsi a noi nell'esprimere gratitudine a questi fratelli per l'eccellente servizio svolto possono manifestarlo. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 diaria, inclusi i due nuovi 70 diaria annunciati all'inizio della settimana, e i cui nomi sono sul sito della Chiesa, e i funzionari generali come attualmente costituiti. Quelli a favore possono farlo alzando la mano. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino. Fratelli e sorelle, vi ringraziamo per la vostra fede e per le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa. Grazie Presidente Eyring. Il coro intonerà ora Gesù nacque in umiltà. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Neil Anderson del Quorum dei dodici apostoli. Sarà seguito dal fratello John E. Newman, il quale serve come secondo consigliere della Presidenza generale della Scuola Domenicale. Poi ci parlerà l'anziano Joaquin E. Costa dei settanta. Poi ci parlerà l'anziano Joaquin E. Costa dei tempi. Cierre. 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 Ci BRU Grazie per la visione 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 opera del Signore più di quanto abbiamo visto finora. Tutto è noto al Signore e col tempo vedremo i Suoi sacri propositi adempiuti. Le benedizioni della Decima si manifestano in molti modi. Nel 1998 ho accompagnato l'allora anziano Henry B. Eyring a una grande riunione della Chiesa nella zona dello Utah, oggi conosciuta come Silicon Slopes, una comunità di grande innovazione tecnologica. Era un periodo di crescente prosperità e l'anziano Eyring ha messo in guardia i Santi dal paragonare i loro beni con quelli degli altri e dal volere di più. Ricorderò per sempre la sua promessa, secondo cui, pagando una decima onesta, il loro desiderio di possedere più beni materiali sarebbe diminuito. Nel giro di due anni la bolla tecnologica è scoppiata. In molti hanno perso il lavoro e le aziende hanno avuto difficoltà durante il periodo di assestamento finanziario. Chi ha seguito il consiglio del presidente Eyring è stato benedetto. La sua promessa mi ha ricordato un'altra esperienza. Ho conosciuto Charlotte Limi, di 12 anni, vicino a Carcassonne, in Francia, nel 1990, mentre servivo come presidente di missione. Gli Imli erano una famiglia fedele che viveva in un appartamento con otto figli. Sulla parete c'erano un'immagine del Salvatore e una del Profeta. Durante l'intervista per la sua benedizione patriarcale, ho chiesto a Charlotte se pagava una decima onesta. Ha risposto, sì, presidente Andersen. Mia madre mi ha insegnato che ci sono benedizioni materiali e benedizioni spirituali che derivano dal pagamento della decima. Mia madre mi ha insegnato che se pagheremo sempre la decima, non patiremo la mancanza di nulla. E, presidente Andersen, non patiamo la mancanza di nulla. Nel darmi il suo permesso di usare questa storia, Charlotte, che oggi ha 45 anni ed è suggellata nel Tempio, ha aggiunto, la mia testimonianza della decima era molto reale all'epoca ed è ancora più forte adesso. Sono profondamente grata per questo comandamento e nel metterlo in pratica continuo a essere grandemente benedetta. Un giorno, ognuno di noi terminerà il proprio viaggio terreno. 25 anni fa, pochi giorni prima di morire di cancro, mia suocera, Martha Williams, ricevette un piccolo assegno per posta. Chiese subito a mia moglie, Kathy, il libretto degli assegni per pagare la decima. Dal momento che la madre era talmente debole da riuscire a malapena a scrivere, Kathy chiese se poteva scrivere l'assegno al suo posto. La madre rispose, no, Kathy, voglio farlo io. E poi aggiunse sommessamente, voglio essere in regola davanti al Signore. Una delle ultime cose che Kathy fece per sua madre fu conservare la busta della decima al suo vescovo. Miei fratelli e sorelle, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è uscita dall'oscurità e sta portando notevoli benedizioni su tutta la terra. Ci sarà chi farà il tifo per noi e chi no. Ho pensato alle parole del saggio Gamaliele, il quale, quando sentì dei miracoli degli apostoli Pietro e Giovanni, avvertì il consiglio di Gerusalemme. Questi uomini lasciateli stare, perché se quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non la potrete distruggere se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Io e voi facciamo parte dell'importante opera di Dio sulla terra. Non si rivelerà vana, ma continuerà a diffondersi nel mondo preparando la via per il ritorno del Salvatore. Il presidente Russell M. Nelson ha dichiarato «Nei giorni a venire, vedremo le più grandi manifestazioni del potere del Salvatore che il mondo abbia mai visto, da oggi fino a quando tornerà. Egli riverserà sui fedeli innumerevoli privilegi, benedizioni e miracoli». Questa è la mia testimonianza. Gesù è il Cristo. Cristo. Questa è la sua sacra opera. Egli tornerà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Uno dei momenti più toccanti nel Libro di Mormon è la visita del Salvatore risorto al popolo presso il Tempio e nella terra di abbondanza. Dopo un giorno di insegnamenti, guarigioni e rafforzamento della fede, Gesù volse l'attenzione delle persone alla nuova generazione. Comandò che gli fossero portati i loro bambini. Pregò per loro e li benedisse uno ad uno. Quell'esperienza fu così commovente che il Salvatore stesso pianse più volte. Poi, parlando alla moltitudine, Gesù disse, «Ecco i vostri piccoli». E mentre erano intenti a guardare, videro i cieli aperti e videro degli angeli scendere dal cielo, i quali ministrarono ai loro bambini. Penso spesso a questa esperienza. Deve aver fatto sciogliere il cuore di ogni persona. Videro il Salvatore. Lo toccarono. Lo conobbero. Lui insegnò loro, li benedisse e li amò. Non c'è da meravigliarsi che dopo questo sacro evento, questi bambini siano cresciuti contribuendo a stabilire una società di pace, di prosperità e di amore cristiano che durò per generazioni. Non sarebbe meraviglioso se i nostri bambini potessero avere esperienze come questa con Gesù Cristo. Sarebbe qualcosa che legherebbe il loro cuore a Lui. Egli ci invita, come ha invitato quei genitori nel Libro di Mormon, a portargli i nostri piccoli. Possiamo aiutarli a conoscere il loro Salvatore e Redentore come fecero quei bambini. Possiamo mostrare loro come trovare il Salvatore nelle scritture e edificare le loro fondamenta su di Lui. Recentemente un buon amico mi ha insegnato qualcosa che non avevo notato prima nella parabola dell'uomo saggio che ha costruito la casa su una roccia. Secondo il racconto di Luca, per porre le fondamenta della sua casa, l'uomo saggio ha scavato e scavato profondo. Non è stata un'azione superficiale o semplice. Ci è voluto uno sforzo. Per edificare la nostra vita sulla roccia del nostro Redentore, Gesù Cristo, dobbiamo scavare in profondità. Rimuoviamo qualsiasi cosa sia sabbiosa o superflua nella nostra vita. Continuiamo a scavare fino a quando lo troviamo. Insegniamo ai nostri figli a legarsi a Lui tramite le sacre ordinanze e alleanze, in modo che quando giungeranno le tempeste e le alluvioni dell'opposizione, poiché verranno di sicuro, avranno poco effetto su di loro, a motivo della roccia sulla quale sono edificati. Questo tipo di forza non giunge casualmente. Non si tramanda alla prossima generazione come eredità spirituale. Ogni persona deve scavare in profondità per trovare la roccia. Impariamo questa lezione da un'altra storia del Libro di Mormon. Quando Re Beniamino si rivolse per l'ultima volta al suo popolo, questo si radunò in famiglia per ascoltare le sue parole. Re Beniamino rese una possente testimonianza di Gesù Cristo e le persone ne furono profondamente toccate. Dichiararono, lo Spirito ha operato in noi, ossia nel nostro cuore, un potente cambiamento e siamo disposti ad entrare in alleanza con il nostro Dio di fare la sua volontà per tutto il resto dei nostri giorni. Ci si potrebbe aspettare che bambini con genitori così profondamente convertiti alla fine si sarebbero convertiti e avrebbero stipulato alleanze essi stessi. Eppure, per qualche motivo non menzionato nel Libro, l'alleanza fatta dai genitori non fece breccia in alcuni dei loro figli. Diversi anni dopo, venerano molti della nuova generazione che non potevano comprendere le parole di Re Beniamino, poiché erano piccoli bambini al tempo in cui egli aveva parlato al suo popolo, ed essi non credevano alle tradizioni dei loro padri. Essi non credevano a quanto era stato detto riguardo alla risurrezione dei morti, né credevano alla venuta di Cristo, e non volevano essere battezzati, né volevano unirsi alla Chiesa, ed erano un popolo separato quanto alla loro fede. È un pensiero che fa riflettere. Per la nuova generazione non è sufficiente che la fede in Gesù Cristo sia la tradizione dei loro padri. Devono avere una propria fede in Gesù Cristo. Come popolo dell'alleanza di Dio, come possiamo instillare nel cuore dei nostri figli il desiderio di stringere alleanze con lui e osservarle? Possiamo cominciare seguendo l'esempio di Nefi. Noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Le parole di Nefi sottintendono uno sforzo costante e continua per insegnare ai nostri figli riguardo a Cristo. Possiamo assicurarci che la voce del popolo dell'alleanza non sia taciuta alle orecchie della nuova generazione e che Gesù non sia un argomento solamente domenicale. La voce del popolo dell'alleanza si trova nelle nostre parole di testimonianza, si trova nelle parole dei profeti viventi. Inoltre è preservata con forza nelle scritture. È lì che i nostri figli giungeranno a conoscere Gesù e a trovare risposte alle loro domande. È lì che impareranno da se stessi la dottrina di Cristo. È lì che troveranno speranza. Questo li preparerà a ricercare la verità e a vivere sul sentiero dell'alleanza per tutta la vita. Mi piace il consiglio del presidente Russell M. Nelson. Dove possiamo ascoltarlo? Possiamo farlo nelle scritture. Esse ci insegnano riguardo a Gesù Cristo e al suo Vangelo, alla vastità della sua espiazione e al grande pieno di felicità e di redenzione di nostro Padre. L'immersione quotidiana nella parola di Dio è cruciale per la sopravvivenza spirituale, particolarmente in questi giorni di crescente sconvolgimento. Se ci nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo ogni giorno, le parole di Cristo ci diranno come reagire a difficoltà che non avremmo mai pensato di dover affrontare. Quindi in che cosa consiste nutrirsi abbondantemente delle parole di Cristo e ascoltarlo? Consiste in ciò che funziona meglio per voi. Potrebbe consistere nel riunirsi con la famiglia per parlare delle cose che lo Spirito Santo vi ha insegnato nello studio personale delle scritture, usando vieni e seguimi. Potrebbe consistere nel riunirsi ogni giorno con i vostri figli per leggere alcuni versetti delle scritture e poi, mentre trascorrete tempo assieme, cercare occasioni per discutere di ciò che avete imparato. semplicemente trovate ciò che funziona per voi e la vostra famiglia e poi provate a fare un po' meglio ogni giorno. Riflettete su questa considerazione contenuta in insegnare la maniera del Salvatore. Potrebbe sembrare che prese individualmente una singola serata familiare, una singola sessione di studio delle scritture e una singola conversazione sul Vangelo non stiano portando a grandi risultati. Tuttavia, l'accumulo di sforzi piccoli e semplici, ripetuti con costanza nel tempo, può essere più potente e fortificante di un occasionale momento grandioso di una lezione epocale. Quindi non arrenderti e non preoccuparti di fare qualcosa di grandioso ogni volta. Sii solo costante nei tuoi sforzi. una delle nostre responsabilità più sacre è quella di aiutare i nostri figli ad arrivare a sapere in maniera profonda e specifica che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il loro personale Salvatore e Redentore, che è a capo della Sua Chiesa. Non possiamo permettere alla nostra voce dell'alleanza di rimanere muta o silenziosa riguardo a Lui. Potreste sentirvi un po' inadeguati in questo ruolo, ma non dovete mai sentirvi soli. Per esempio, i consigli di Rione sono autorizzati a organizzare le riunioni del Consiglio degli Insegnanti per i genitori. In queste riunioni trimestrali i genitori possono riunirsi per imparare dalle esperienze l'uno dell'altro, discutere di come stanno rafforzando la propria famiglia e apprendere i principi fondamentali dell'insegnamento cristiano. Questa riunione va tenuta durante la seconda ora in Chiesa, è diretta da un membro del Rione scelto dal Vescovo e segue il formato delle normali riunioni del Consiglio degli Insegnanti, con l'uso di insegnare alla maniera del Salvatore come risorsa principale. Vescovi, se il vostro Rione non sta attualmente tenendo riunioni del Consiglio degli Insegnanti per i genitori, collaborate con il vostro Presidente della Scuola Domenicale e con il Consiglio di Rione per organizzarvi. Miei cari amici in Cristo, state facendo molto meglio di quello che credete. Continuate a lavorarci su. I vostri figli stanno osservando, ascoltando e imparando. Insegnando loro, giungerete a conoscere la loro vera natura di amati figli e amate figlie di Dio. Potrebbero dimenticarsi del Salvatore per un tempo, ma vi prometto che Lui non si dimenticherà mai di loro. Quei momenti in cui lo Spirito Santo parla loro persisteranno nel loro cuore e nella loro mente, e un giorno i vostri figli faranno eco alla testimonianza di Enos. So che i miei genitori sono giusti, perché mi hanno istruito nella disciplina e negli ammonimenti del Signore, e benedetto sia il nome del mio Dio per questo. Accettiamo l'invito del Salvatore e portiamo i nostri figli a Lui. Se lo faremo, essi lo vedranno. Lo toccheranno. Lo conosceranno. Lui insegnerà loro. Li benedirà. E oh, come li amerà. E quanto lo amo io. Nel suo sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Cari fratelli e sorelle, questa è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Che gioia è essere riuniti come Sua Chiesa. Sono grato al Presidente Nelson per averci rammentato di usare spesso il nome corretto della Chiesa del Signore, in modo da ricordarci di chi è questa Chiesa e chi sono gli insegnamenti che seguiamo. Il Presidente Nelson ha dichiarato nei giorni a venire vedremo le più grandi manifestazioni del potere del Salvatore che il mondo abbia mai visto. Egli rivesterà sui fedeli innumerevoli privilegi, benedizioni e miracoli. Uno dei più grandi privilegi e opportunità per me e mia moglie, René, è conoscere i Santi dove serviamo. Ascoltiamo le loro storie, assistiamo alle loro perdite, condividiamo il loro dolore e gioiamo dei loro successi. Siamo stati testimoni di molte delle benedizioni e dei miracoli che il Salvatore ha riversato sui fedeli. Abbiamo incontrato persone che hanno affrontato l'impossibile, che hanno sofferto l'impensabile. Abbiamo visto la manifestazione del potere del Salvatore in una vedova che ha perso il marito mentre svolgevano un incarico del Signore in Bolivia. Lo abbiamo visto in una giovane donna in Argentina che è stata spinta sotto un treno e ha perso una gamba solo perché qualcuno voleva rubarle il cellulare. E in suo padre, che è solo, ora deve raccogliere i cocci e rafforzare la figlia dopo un atto di crudetà tanto inspiegabile. Lo abbiamo visto nelle famiglie che hanno perso la casa e ogni bene durante gli incendi scoppiati in Cile, appena due giorni prima di Natale 2022. Lo abbiamo visto in chi soffre dopo un divorzio traumatico e in chi è vittima innocente di abusi. Che cosa dà loro il potere di affrontare le situazioni difficili? Da che cosa deriva quella forza aggiuntiva per andare avanti quando tutto sembra perduto? Ho scoperto che la fonte di tale forza è la fede in Gesù Cristo, mentre cerchiamo di venire a Lui ogni singolo giorno. Il profeta Giacobbe insegna ed egli verrà nel mondo per poter salvare tutti gli uomini se daranno ascolto alla sua voce, poiché ecco egli soffre le pene di tutti gli uomini. Sì, le pene di ogni creatura vivente siano uomini, donne e bambini che appartengono alla famiglia d'Adamo. A volte avere fede in Gesù Cristo può sembrare un'impresa impossibile, quasi irrealizzabile. Magari pensiamo che venire a Cristo richiede una forza, un potere e una perfezione che non abbiamo e che non riusciamo proprio a trovare l'energia per fare tutto. Ma quello che ho imparato da tutte queste persone è che la fede in Gesù Cristo è ciò che ci dà l'energia per intraprendere il viaggio. A volte magari pensiamo devo sistemare la mia vita prima di venire a Cristo, ma la verità è che veniamo a Gesù per sistemare la nostra vita tramite Lui. Non veniamo a Gesù perché siamo perfetti, veniamo a Lui perché siamo imperfetti e in Lui possiamo essere resi perfetti. Come possiamo iniziare a esercitare un pizzico di fede ogni giorno? Io inizio al mattino, quando mi sveglio, invece di controllare il telefono faccio una preghiera. Anche semplice. Poi leggo un versetto. Questo mi aiuta con l'alleanza settimanale che stipulo quando prendo parte al sacramento di ricordarmi sempre di Lui. Quando inizio la giornata con una preghiera e un versetto posso ricordarmi di Lui mentre uso il cellulare. Posso ricordarmi di Lui quando parlo con mia moglie e i miei figli. Quando mi imbatto in problemi e tensioni e cerco di affrontarli come farebbe Gesù. Quando mi ricordo di Lui sento il desiderio di cambiare, di pentirmi. Trovo la fonte di energia per osservare le mie alleanze e sento l'influenza dello Spirito Santo nella mia vita e obbedisco ai Suoi comandamenti che Egli mi ha dato per poter avere sempre con me il Suo Spirito. Mi aiuta a perseverare fino alla fine o almeno fino alla fine della giornata. E nei giorni in cui non riesco a ricordarmi di Lui per tutto il giorno, Lui è sempre lì. Mi ama e mi dice va bene puoi provarci domani. Anche se siamo imperfetti nel ricordarci di Lui, il nostro Padre Celeste non smette mai di ricordarsi di noi. Uno degli errori che spesso commettiamo è pensare che rispettare le alleanze, ossia le promesse che facciamo a Dio, sia in qualche modo una transazione che facciamo con Lui. Io obbedisco a Lui e Lui mi protegge in modo che non mi accada nulla di brutto. Pago la decima e non perderò mai il lavoro o il fuoco non mi brucerà la casa. Ma poi quando le cose non vanno come ci aspettiamo, gridiamo al Signore non ti curi tu che io perisco. Le nostre alleanze non sono una mera transazione, ma implicano una trasformazione. Tramite le mie alleanze ricevo il potere santificante e fortificante di Gesù Cristo, che mi permette di diventare una persona nuova, di perdonare ciò che sembra imperdonabile, di superare l'impossibile. Ricordarsi sempre di Gesù Cristo è un potere. Mi dà quella forza in più per obbedire ai Suoi comandamenti che Egli mi ha dato. Mi aiuta a essere più gentile, a sorridere senza motivo, a essere un pacificatore, a evitare il conflitto, a far prevalere Dio nella mia vita. Quando la nostra sofferenza o la sofferenza di qualcuno che amiamo è talmente grande da non riuscire a sopportarla, ricordare Gesù Cristo e venire a Lui può alleviare il peso, adolcire il cuore e lenire il dolore. Questo è il potere che ha permesso a un padre, al di là delle sue capacità umane, di sostenere sua figlia mentre soffriva per il dolore fisico ed emotivo della perdita della gamba. Quando l'anziano Suarez si è recato in visita in Argentina lo scorso giugno e le ha chiesto di parlare del suo tragico incidente, Flavia ha risposto con fede, ho provato turbamento, amarezza, rabbia e odio quando è successo. Una cosa che mi ha aiutato è stata non chiedermi perché a me, ma a che scopo. Questo mi ha avvicinato agli altri e al Signore invece di allontanarmi da Lui. Ho dovuto aggrapparmi a Lui. Il Presidente Nelson ha insegnato la ricompensa del tenere fede alle alleanze con Dio e il potere celeste, il potere che ci rafforza per resistere meglio le nostre prove, tentazioni e sofferenze. Pertanto coloro che tengono fede alle alleanze hanno diritto a un tipo speciale di riposo. E' questo il genere di pace e di riposo che ho visto negli occhi della vedova, nonostante lo strazio di sentire ogni giorno la mancanza del marito. Il Nuovo Testamento ci narra della volta in cui Gesù e i Suoi discepoli si trovavano su una barca. Ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca. Ora egli stava dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono, maestro, non ti curi tu che noi periamo. Ed egli destato si sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Ed egli disse loro, perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Questa storia mi ha sempre incuriosito. Il Signore si aspettava che usassero la loro fede per sedare la tempesta, per sgridare il vento. La fede in Gesù Cristo è quel senso di pace che ci permette di resistere alla tempesta, sapendo che non periremo perché Lui è sulla barca con noi. E' il genere di fede che abbiamo visto facendo visita alle famiglie dopo gli incendi scoppiati in Cile. Le loro case erano bruciate interamente, avevano perso tutto. Eppure, mentre camminavamo in quelle che erano le varie abitazioni e ci raccontavano le loro esperienze, sentivamo di essere su suolo sacro. Una sorella ha detto a mia moglie, quando ho visto che le case vicine stavano bruciando, ho sentito che anche la nostra casa sarebbe bruciata, che avremmo perso tutto. Invece di disperazione, ho provato un senso di pace indescrivibile. In qualche modo sentivo che tutto sarebbe andato bene. Confidare in Dio e rispettare le nostre alleanze con Lui dona potere alla nostra debolezza e conforto al nostro dolore. Sono grato dell'opportunità che io e René abbiamo avuto di incontrare alcuni di questi straordinari santi. Per i loro numerosi esempi di fede, di forza e di perseveranza. Per storie di dolore e delusioni che probabilmente non finiranno mai sulle prime pagine dei giornali o non diventeranno mai virali. Per le foto che non vengono scattate, delle lacrime versate e delle preghiere offerte dopo una perdita o un divorzio traumatico. E per i post che non vengono mai pubblicati sulla paura, sul dolore e sulla sofferenza che diventano sopportabili grazie alla fede in Gesù Cristo e alla sua espiazione. Queste persone rafforzano la mia fede e di questo sono profondamente grato. So che questa è la Chiesa di Gesù Cristo. So che Egli è pronto a dotarci del suo potere se veniamo a Lui ogni singolo giorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quando vi è invitato a farlo, la congregazione si unirà ora al coro per cantare «Nell'anima mia c'è il sol». Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Gary Stevenson del Quorum dei dodici apostoli. Sarà seguito dagli anziani Yon Wan Choi e Alan T. Phillips dei settanta. «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della cento novantatresima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». «Questa è la sessione del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ini» «Questa è la sessionая del sabato pomeriggio della chiesa di Gesù Cristo dei pelvis della chiesa di Gesù Cristo dei uważano nel segna di Gesù Cristo dei painti Madri», «Questa è una sessione del sabato pomeriggio della chiesa di erlebtizzazione di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». The flowers of grace appear While the sun shine, blessed sun shine When the peaceful happy moments grow When Jesus shows the sky and grace There is sunshine in the soul There is glad we receive my soul today At hope and praise and love For blessings which he gives me now For joy is made up above Oh, the sun shine, blessed sun shine When the peaceful happy moments grow When Jesus shows his sky and grace There is sunshine in the soul Recentemente gli occhi del mondo sportivo Sono stati puntati sulla Coppa del Mondo Femminile 2023 Ospitata da Australia e Nuova Zelanda Atlete di livello mondiale In rappresentanza di oltre 200 squadre nazionali Di tutto il mondo hanno dimostrato grinta Dedizione, talento e atletismo Gareggiando per il più alto riconoscimento Del mondo del calcio Rimaniamo incantati da coloro Che in numerosi sport e altre discipline Raggiungono i massimi livelli della loro arte Parliamo dei loro talenti o doni dati da Dio Intendiamo anche coloro che hanno doti Nella danza, nella ginnastica, nella musica, nell'arte, nel teatro Nella matematica, nelle scienze e altro ancora Ciascuna di queste persone dimostra di avere dei doni dati da Dio Che vengono poi raffinati E perfezionati da una vita di duro lavoro Di studio e di pratica I doni dati da Dio creano persone capaci Guardando attraverso la lente del Vangelo Dio accorda ai Suoi figli molti doni spirituali Rendendoli persone spiritualmente capaci Ai membri della Chiesa che rispettano le alleanze Vengono conferiti i doni dello Spirito Che includono il dono della testimonianza di Gesù Cristo Quale nostro Salvatore Il dono dello Spirito Santo Il dono della fede per guarire ed essere guariti Il dono del discernimento Il dono di ricevere miracoli E i doni della saggezza e della conoscenza Il Signore ci invita a ricercare sinceramente i doni migliori Anche quelli spirituali Egli dà doni spirituali per benedirci E affinché li usiamo per benedire gli altri Tornando alla nostra analogia delle persone di talento È importante ricordare che un dono da solo non fa un maestro A prescindere da un talento naturale straordinario È attraverso la pratica e l'impegno scrupolosi e continui Che le persone affinano e perfezionano le loro abilità Per raggiungere il loro massimo livello di bravura Anche quei doni ricevuti e scartati Sono spesso accompagnati dalla temuta frase Necessario assemblare Allo stesso modo ho osservato una curva di apprendimento associata ai doni spirituali L'esercizio dei doni spirituali richiede un esercizio spirituale Avere la guida dello Spirito Santo nella vostra vita richiede lavoro spirituale Questo lavoro comprende la preghiera fervente e lo studio costante delle scritture Prevede anche l'osservanza delle vostre alleanze e dei comandamenti di Dio Prevede di prendere degnamente il sacramento ogni settimana Quali sono i frutti dell'esercitare i doni spirituali? Tra gli altri, i suggerimenti dello Spirito che ci aiutano ad affrontare le nostre necessità quotidiane E ci mostrano cosa fare e cosa dire Benedizioni di pace e conforto Quando ascoltiamo e agiamo in base ai suggerimenti spirituali Lo Spirito Santo amplifica le nostre abilità e capacità Facendo sì che superino di gran lunga ciò che possiamo fare da soli Questi preziosi doni spirituali ci aiuteranno in ogni aspetto della nostra vita La compagnia costante dello Spirito Santo è una dei più grandi doni spirituali Di cui godono i Santi degli ultimi giorni Quanto è importante questo dono? Il Presidente Russell M. Nelson ha risposto categoricamente a questa domanda Quando ha affermato che nei giorni a venire non sarà possibile sopravvivere spiritualmente senza la guida La direzione, il conforto e l'influenza costante dello Spirito Santo Nel corso del mio ministero ho riscontrato un desiderio universale da parte di tutti Di sapere come invitare e riconoscere i suggerimenti dello Spirito I suggerimenti dello Spirito sono molto personali E si presentano in molti modi diversi Tuttavia abbiamo la benedizione di avere le parole dei profeti Sia antichi che moderni Che ci danno indicazioni preziose su come ricevere guida dallo Spirito Vorrei offrire quattro principi guida che potrebbero esservi utili per invitare E riconoscere i suggerimenti dello Spirito Il primo è stare in luoghi Santi Recentemente ho preso parte all'apertura al pubblico del Tempio di Tokyo, Giappone La risposta agli inviti formali inviati sia agli ospiti della stampa che a quelli VIP Ha superato di gran lunga le aspettative Centinaia di persone hanno partecipato alle visite guidate del Tempio Gli ospiti sono stati profondamente toccati dalla bellezza del Tempio Che presentano decorazioni e motivi con profondi legami alla tradizione giapponese Ancora più emotivamente emozionante è stata la reazione riverente e rispettosa Suscitata negli ospiti quando sono state descritte le ordinanze per gli antenati Nelle stanze in cui si sarebbero svolte La cosa più commovente però sono state le emozioni suscitate dallo Spirito Uno di questi momenti Con un importante funzionario governativo mi è rimasto impresso nella mente Dopo un momento di silenzio meditativo nella Sala Celeste Commosso e profondamente toccato Mi ha sussurrato all'orecchio Anche l'aria che respira in questa stanza sembra diversa Ho capito che stava cercando di descrivere la presenza dello Spirito Santo Che davvero dimora in luoghi sacri Se sperate di sentire lo Spirito State in un luogo dove lo Spirito possa facilmente dimorare I nostri templi e le nostre case sono i più sacri di questi spazi dedicati Al loro interno invitiamo e riconosciamo più facilmente lo Spirito Altri luoghi santi sono le case di riunione Gli edifici dei seminari e gli istituti I siti storici della Chiesa e i centri visitatori State in luoghi santi In secondo luogo state con persone sante Scriverò il secondo principio guida con un altro ricordo Descriverò li Non dimenticherò mai quando ho partecipato a una riunione tenutasi in un popolare palazzetto dello sport Di solito il palazzetto era pieno di tifosi chiassosi che incitavano la squadra di casa E magari fischiavano anche gli avversari Quella sera però l'atmosfera era piuttosto diversa Il palazzetto era gremito di migliaia di giovani riuniti per onorare e commemorare la vita del profeta Joseph Smith Il loro tono riverente e pacato La loro gratitudine e il loro cuore devoto Hanno riempito il palazzetto con la presenza del Santo Spirito Potevo letteralmente vederlo nei loro volti Era il dono dello Spirito Santo in azione Che confermava le testimonianze che venivano date di Joseph Smith e della restaurazione Lo Spirito non può essere trattenuto dal partecipare a un raduno di persone sante Se sperate di sentire lo Spirito State con persone in cui lo Spirito può facilmente dimorare E il Salvatore lo ha detto in questo modo Poiché dovunque due o tre sono radunati nel mio nome Qui vi sono io in mezzo a loro Voi giovani Pensate ai vostri raduni di persone sante I quorum e le classi, l'FSI e il seminario Le attività di Rione e Palo E perfino i cori di Rione Scegliete di stare con persone e di andare in luoghi in cui vi è rettitudine Trovate forza nel gruppo Trovate buoni amici Siate buoni amici Sostenetevi avvicendo ovunque siate State con persone sante In terzo luogo, testimoniate delle sacre verità il più spesso possibile Il Consolatore fa sempre sentire la sua voce quando noi testimoniamo con la nostra Lo Spirito rende testimonianza sia a chi parla sia a chi ascolta Ricordo una volta in cui ho fatto una corsa di 45 minuti in taxi a New York Dopo aver avuto una cordiale conversazione sul Vangelo con l'autista per la durata del tragitto verso l'aeroporto L'ho pagata e mi sono preparato a scendere dal taxi Quando mi sono reso conto di non aver offerto una testimonianza di ciò che avevo condiviso Fermandomi ho condiviso una breve e semplice testimonianza Invitando lo Spirito e facendo venire le lacrime agli occhi di entrambi Cercando e cogliendo le opportunità di condividere la vostra testimonianza con gli altri Creerete dei momenti in cui riceverete voi stessi lo Spirito Riconoscerete voi stessi lo Spirito L'ultimo principio è ascoltare attentamente lo Spirito Santo Può essere il nostro compagno costante ma parla con toni lievi e pacati Il profeta Elia constatò che la voce del Signore non era nel vento, nel terremoto o nel fuoco Ma era una voce dolce e sommessa Non è una voce di tuono ma piuttosto una voce tranquilla di perfetta dolcezza Come se fosse un sussurro Eppure può penetrare proprio in fondo all'anima Il Presidente Boy K. Packer ha affermato Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridando o scuotendoci con mano pesante Piuttosto sussurra, carezza con tanta gentilezza Che se siamo preoccupati possiamo non sentire affatto il suo tocco Ho osservato che a volte la sua voce è così lieve O io sono così preoccupato Che una persona cara la coglie per me Molte sono state le volte in cui i suggerimenti dello Spirito Santo Mi sono giunti tramite mia moglie, l'ESA I genitori o i dirigenti retti possono ricevere una guida ispirata per voi Il rumore, il clamore e la contesa prevalenti nel mondo Possono sopraffare le impressioni pacate e tranquille dello Santo Spirito Trovate un luogo tranquillo, un posto sacro Dove potete cercare di ricevere indicazioni dallo Spirito Mentre riflettete su questi principi per invitare e riconoscere lo Spirito Considerate le seguenti indicazioni di cautela Confermate le vostre impressioni spirituali Ad esempio, le impressioni dello Spirito si allineano con le scritture e gli insegnamenti dei profeti viventi Accertatevi che le sensazioni che ricevete siano coerenti con il vostro incarico A meno che non siate chiamati da una debita autorità Le impressioni dello Spirito non vi vengono date per consigliare o correggere gli altri Le questioni spirituali non possono essere forzate Si può coltivare un atteggiamento e un ambiente che invitino lo Spirito e ci si può preparare Ma non si può dettare come o quando arriva l'ispirazione Siate pazienti e abbiate fiducia che riceverete ciò che vi serve al momento giusto Usate il vostro buonsenso A volte vogliamo essere guidati dallo Spirito in ogni cosa Tuttavia, spesso il Signore vuole che ricorriamo all'intelligenza che Dio ci ha dato E che agiamo in modi coerenti con la comprensione migliore che abbiamo Il Presidente Dallin H. Hawks ha insegnato Il desiderio di essere guidati dal Signore è un vantaggio Ma deve essere accompagnato dalla consapevolezza che il nostro Padre Celeste Lascia molte decisioni alle nostre scelte personali Le persone che cercano di lasciare tutte le decisioni al Signore E implorano una rivelazione per ogni scelta Presto si troveranno nella situazione in cui pregheranno per avere una guida senza mai riceverla Dobbiamo studiare le cose nella nostra mente Poi dobbiamo pregare per avere una guida e agire di conseguenza Se non riceviamo una guida, dobbiamo agire secondo il nostro buonsenso In conclusione, i Santi degli ultimi giorni dovrebbero essere un popolo capace Che osserva le alleanze Tuttavia, sta a ciascuno di noi cercare di esercitare i propri doni spirituali E poi invitare e imparare a riconoscere i suggerimenti dello Spirito Quattro principi guida che ci aiutano in questo cruciale impegno spirituale sono State in luoghi santi State con persone sante Testimoniate delle sacre verità Ascoltate lo Spirito La vostra capacità di invitare e riconoscere i suggerimenti dello Spirito si svilupperà un passo alla volta Arrivate a essere più in sintonia con il linguaggio dello Spirito È come imparare un'altra lingua È un processo graduale che richiede un impegno diligente e paziente Tornando al punto da cui siamo partiti Ricordate che come Santi degli ultimi giorni avete dei doni Immaginate questa familiare scena dominicale che mi è stata descritta di recente Una bambina in piedi su un rialzo, appena visibile al pulpito Suo padre le stava accanto e la incoraggiava e aiutava Sussurrandole dolcemente all'orecchio Mentre lei diceva con orgoglio Sono una figlia di Dio La testimonianza successiva è stata resa da una giovane adulta, non sposata Che ha esordito con una battuta nervosa Vorrei anche io avere qualcuno che mi sussurri all'orecchio in quel modo Poi ha avuto un lampo di ispirazione, ha testimoniato Io ho qualcuno che mi sussurra all'orecchio in quel modo Lo Spirito Santo Concludo con un invito per ognuno di voi Ma soprattutto per tutti i giovani Molti di voi iniziano la giornata davanti allo specchio Domani, questa settimana, quest'anno Sempre Fermatevi un attimo quando vi guardate allo specchio Pensate dentro di voi O se preferite, dite ad alta voce Wow, guarda là Che meraviglia che sono Dio è mio Padre Lui mi conosce Mi ama Ho dei doni Ho il dono dello Spirito Santo come compagno costante Per voi, santi degli ultimi giorni Che avete ricevuto doni Aggiungo la mia testimonianza di Dio Padre, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo Che rende testimonianza di loro Nel nome di Gesù Cristo Amen Do you want to be happy? Volete essere felici? Che cosa vi rende infelici? Il Presidente Nelson ha detto Se volete essere infelici, infrangete i comandamenti E non pentitevi mai Se volete avere gioia Rimanete sul sentiero dell'Alleanza Non è forse semplice essere felici? Vi basta stipulare alleanze e osservarle nella vostra vita Rivediamo alcune cose che possono aiutarci a rimanere sul sentiero dell'Alleanza E renderci felici 1. Che cos'è il sentiero dell'Alleanza? Secondo l'anziano Del Girenland Il termine sentiero dell'Alleanza Si riferisce a una serie di alleanze Tramite le quali veniamo a Cristo E ci colleghiamo a Lui Grazie a questo legame dell'Alleanza Abbiamo accesso al suo potere eterno Il sentiero inizia con la fede in Gesù Cristo E il pentimento Seguiti dal battesimo e dal ricevimento dello Spirito Santo Rinnoviamo queste alleanze ogni volta che prendiamo il sacramento Iniziando con l'Alleanza battesimale Stipuliamo altre alleanze nel corso della nostra vita Di nuovo l'anziano Renland ha detto Il sentiero dell'Alleanza Conduce alle ordinanze del Tempio Come l'investitura del Tempio L'investitura E' il dono da parte di Dio di sacre alleanze Che ci collegano più pienamente a Lui Due Siete sul sentiero dell'Alleanza? A volte quando stipuliamo alleanze manchiamo di osservarle Quando questo succede Come possiamo tornare sul sentiero dell'Alleanza? Permettetemi di condividere alcuni esempi relativi al tornare sul sentiero dell'Alleanza Poco più di un mese fa ho ricevuto un messaggio da un missionario ritornato Che aveva servito con noi Ha detto L'ultimo periodo è stato duro Combattere ogni giorno contro l'ansia e la depressione è stato opprimente Ed è molto difficile Mi sento solo e infelice Ho pregato per ricevere la guida del nostro Padre Celeste Per avere pace e conforto in quello che posso fare Per combattere le difficoltà Mentre pregavo Ho sentito lo Spirito suggerirmi che dovevo pagare la mia decima per intero Ho sentito lo Spirito molto forte e ho sentito immediatamente l'impulso di farlo Insieme al desiderio di farlo ho sentito il suggerimento Se paghi la tua decima andrà tutto bene Sto ancora lottando per trovare pace Ma ho una testimonianza del nostro Salvatore E che tramite la mia obbedienza posso sentire E trovare nel mio cuore e nella mia mente La pace che sto cercando Recentemente ho deciso di tornare in Chiesa E di cercare lo Spirito in tutto ciò che faccio Adesso sta molto bene Anche voi potreste chiedere al Padre Celeste di darvi pace Ma la risposta potrebbe essere diversa da quella che vi aspettereste Fintanto che cercherete di conoscere il Salvatore E pregherete il Padre Celeste Egli vi darà una risposta personalizzata Il Presidente Monson ha insegnato La più grande lezione che possiamo imparare nella mortalità È che quando Dio parla e noi obbediamo Saremo sempre nel giusto Quando osserviamo i comandamenti La nostra vita è più felice Più appagante E meno complicata Le nostre difficoltà e i nostri problemi Sono più facili da sopportare E riceviamo le benedizioni promesse da Dio Quando fu chiamato come Vescovo Ciò accadde durante il periodo più difficile della mia vita Ero un giovane padre Poco più che trentenne Ma avevo problemi economici a causa di difficoltà familiari Non riuscivo a trovare una soluzione E pensavo che le difficoltà non sarebbero mai finite Ero esausto economicamente ed emotivamente Iniziai a dubitare anche della mia forza spirituale Fu in quel periodo difficile Che il mio Presidente di Palo mi estese la chiamata Accettai comunque la chiamata Nonostante fosse dura Anche mia moglie fece un'intervista con il Presidente di Palo Ma non riuscì a dire di sì Non disse neanche no Ma continuò a versare lacrime Pianse per tutta la settimana Chiedendo al Padre Celeste Perché adesso? E conosci davvero ogni individuo? Non ricevette una risposta Ma io fui sostenuto come Vescovo la domenica seguente Non fece più quelle domande al Padre Celeste Ma mi sostenne nella mia chiamata per sei anni La domenica del mio rilascio Mia moglie odì una voce mentre stava ricevendo il sacramento La voce le sussurrò Dato che avevate difficoltà a camminare L'ho chiamato come Vescovo Per potervi sostenere e camminare al posto vostro Ripensando ai sei anni precedenti Si rese conto che tutte quelle numerose difficoltà Che sembravano infinite Si erano ora risolte lungo il cammino Imparammo Che quando pensiamo che per noi Non sia un buon momento per ricevere una chiamata Potrebbe essere il momento in cui ne abbiamo più bisogno In qualunque momento il Signore ci chiede di servire in una qualsiasi chiamata Che sia una chiamata leggera o pesante Egli vede i nostri bisogni Ci dà la forza Che ci serve E ha pronte delle benedizioni da riversare su di noi Mentre serviamo fedelmente Ci sono molte altre cose Che ci distraggono dal rimanere sul sentiero dell'alleanza A prescindere da cosa sia Non è mai troppo tardi per volgere i nostri cuori al Padre Celeste Per chiedere aiuto L'anziano Paul V. Johnson ci ha insegnato Quando seguiamo Satana Gli diamo potere Quando seguiamo Dio Egli ci dà potere Nel Libro di Mormon Re Beniamino testimonia E oltre a ciò desidererei che consideraste lo Stato benedetto e felice Di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio Poiché ecco Essi sono benedetti in tutte le cose Sia temporali che spirituali E se si mantengono fedeli fino alla fine Sono accolti in cielo Affinché Possano in tal modo dimorare con Dio In uno stato di felicità senza fine Tre In che modo tenere fede alle alleanze stipulate con Dio Vi può rendere felice? Felici? Mia moglie dice che il nostro matrimonio ci aggioga l'uno all'altra E grazie a questo Lei può fare cose che non riusciva a fare prima Per esempio Fin da quando era giovane Aveva difficoltà a uscire quando era buio Ma adesso non è più difficile perché io vado con lei Lei è bassa E non riesce a raggiungere le mensole in alto A meno che non usi una sedia o una scala Ma io posso raggiungere le cose sulle mensole alte per lei Perché sono più alto di lei Prendere il gioco del nostro Signore su di noi è la stessa cosa Quando ci aggioghiamo a Lui Possiamo fare cose che non potremmo fare da soli Perché Lui può fare le cose che noi non possiamo fare da soli L'anziano David A. Bednar ha detto Quando stringiamo e teniamo fede alle alleanze sacre Ci leghiamo al Signore Gesù Cristo E condividiamo il gioco con Lui In sostanza il Salvatore ci invita a fidarci di Lui E a tirare insieme a Lui Sebbene i nostri migliori sforzi non siano pari ai Suoi Ne sono ad essi paragonabili Quando confidiamo in Lui E tiriamo insieme il nostro carico Durante il viaggio della vita terrena Il Suo gioco è veramente dolce Il Suo carico è davvero leggero Il Presidente Nelson ha insegnato anche A giocarvi al Salvatore Significa avere accesso alla Sua forza E al Suo potere redentore La ricompensa del tenere fede alle alleanze con Dio È il potere celeste Il potere che ci rafforza per resistere meglio alle nostre prove Tentazioni e sofferenze Questo potere facilita il nostro cammino Coloro che osservano le leggi superiori di Gesù Cristo Hanno accesso al Suo potere superiore Osservare le alleanze in realtà rende la vita più facile Ogni persona che stipula alleanze nei fonti battesimali e nei templi E che le osserva Ha maggior accesso al potere di Gesù Cristo Mie cari fratelli e sorelle Volete essere felici? Rimanete sul sentiero dell'alleanza La vostra vita sarà più facile, più felice e piena di gioia Il nostro Salvatore ci sta invitando Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati E io vi darò riposo Egli è il Cristo vivente Egli porta i nostri fardelli E rende la nostra vita più facile Nel nome di Gesù Cristo Amen Sei anni fa la nostra famiglia stava viaggiando di notte Appena fuori la città di Oxford Come accade spesso con i bambini piccoli Abbiamo avuto bisogno di fare una sosta Per cui abbiamo trovato una stazione di servizio Con diversi negozi e ristoranti Siamo scesi dalla macchina Ordinatamente abbiamo utilizzato i servizi E siamo risaliti in auto riprendendo il nostro viaggio 15 minuti dopo Nostro figlio maggiore ha posto una domanda cruciale Dov'è Jasper? Jasper si siede da solo nel retro della macchina Abbiamo pensato si fosse addormentato O si stesse nascondendo O ci stesse facendo uno scherzo Quando suo fratello ha controllato il retro della macchina Con più attenzione Abbiamo scoperto che il nostro figlio di 5 anni Non c'era Il nostro cuore si è riempito di angoscia Mentre tornavamo alla stazione di servizio Abbiamo implorato il Padre Celeste Di proteggere Jasper Abbiamo chiamato la polizia E li abbiamo informati della situazione Quando siamo arrivati Pieni d'ansia Più di 40 minuti dopo Abbiamo trovato due auto della polizia Nel parcheggio con i lampeggianti accesi Dentro una delle auto C'era Jasper che stava giocando con i pulsanti Non dimenticherò mai La gioia che abbiamo provato nel ritrovarlo Molti degli insegnamenti in parabole del Salvatore Si concentrano sul radunare Restaurare O sullo sforzarsi di trovare ciò che era disperso o perduto Tra queste parabole Ci sono quella della pecora perduta Della dramma perduta E del figlio perduto Ripensando negli anni All'incidente di Jasper Ho riflettuto sull'identità divina E sull'importanza dei figli di Dio Sul potere redentore di Gesù Cristo E sull'amore perfetto di un Padre in cielo Che conosce voi e me Spero Oggi Di rendere testimonianza di queste verità La vita mette alla prova Molte persone si sentono sopraffatte Sole, isolate o esauste Quando le cose sono difficili Possiamo avere la sensazione di aver perso la strada O di essere rimasti indietro Sapere che siamo tutti figli di Dio E membri della sua famiglia eterna Ci restituirà un senso di appartenenza E uno scopo Il presidente Ballard ha detto C'è un'identità importante Che noi tutti condividiamo ora e per sempre Ovvero Che tutti voi siete E siete sempre stati Figli o figlie di Dio Comprendere questa verità Comprenderla veramente E farla propria Cambia la vita Non fraintendete Non fraintendete E non sottovalutate Quanto siete importanti per il vostro Padre in cielo Non siete Né un sottoprodotto accidentale della natura Né un orfano cosmico Né il risultato della somma di materia Tempo e caso Laddove c'è un disegno C'è un disegnatore La vostra vita ha un senso e uno scopo La restaurazione Continua del Vangelo di Gesù Cristo Porta luce e comprensione Riguardo la vostra identità divina Siete amati figli del Padre Celeste Voi siete il soggetto Per questo come discepoli di Gesù Cristo Noi portiamo i fardelli gli uni degli altri Piangiamo con quelli che piangono E confortiamo quelli che hanno bisogno di conforto La religione non riguarda soltanto il nostro rapporto con Dio Riguarda anche il nostro rapporto con gli altri L'anziano Holland ha spiegato che la parola religione Deriva dal latino religare Che significa legare O più letteralmente rilegare Quindi la vera religione È il legame che ci unisce a Dio e agli altri Il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri Conta davvero Il presidente Nelson insegna Il messaggio del Salvatore è chiaro I suoi veri discepoli edificano Innalzano Incoraggiano Persuadono e ispirano Questo è ancora più importante Quando i nostri compagni di viaggio Si sentono perduti Soli Dimenticati O allontanati Non dobbiamo guardare lontano Per trovare persone in difficoltà Possiamo iniziare aiutando qualcuno Nella nostra famiglia Congregazione o comunità locale Possiamo anche cercare di alleviare La sofferenza dei 700 milioni di persone Che vivono in estrema povertà O dei 100 milioni di persone Che sono costrette a migrare A causa di persecuzioni Conflitti E violenze fondate sull'identità Gesù Cristo è l'esempio perfetto Di come prendersi cura di chi ha bisogno Gli affamati Gli stranieri Gli ammalati I poveri E gli imprigionati La sua opera È la nostra opera L'anziano Gong insegna Che il nostro viaggio verso Dio Spesso si trova insieme Pertanto I nostri rioni dovrebbero essere Un rifugio per tutti i figli di Dio Stiamo frequentando la Chiesa passivamente O stiamo creando attivamente comunità Il cui scopo è adorare Ricordare Cristo E ministrare gli uni agli altri Possiamo seguire il consiglio Del presidente Nelson Di giudicare di meno Amare di più E diffondere il puro amore di Gesù Attraverso le nostre parole e azioni L'espiazione di Gesù Cristo È la suprema espressione Dell'amore del Padre Celeste Per i Suoi figli La parola espiazione In inglese Descrive e riportare insieme Coloro che sono stati allontanati O separati La missione del nostro Salvatore Aveva lo scopo di offrire Sia una via per tornare al Padre Celeste Sia un aiuto durante il viaggio Il Signore conosce per Sua esperienza Come soccorrerci durante le prove della vita Non abbiate dubbi Cristo è il nostro soccorritore E il guaritore delle nostre anime Se esercitiamo la fede Egli ci aiuta ad andare avanti Attraverso le avversità Egli continua a rivolgerci Il suo invito amorevole e misericordioso Venite a me Voi tutti che siete travagliati ed aggravati Ed io vi darò riposo Prendete su di voi il mio gioco Ed imparate da me E voi troverete riposo Alle anime vostre La metafora del gioco è potente Come ha spiegato il Presidente Howard W. Hunter Il gioco era un attrezzo Che permetteva di utilizzare la forza Di un secondo animale Accoppiandole e aggiungendola Agli sforzi di un solo animale Perché potessero condividere E quindi alleggerire La pesante fatica del compito da svolgere Un lavoro che era estremamente faticoso E forse impossibile da svolgere Per un solo animale Veniva equamente distribuito e svolto Senza difficoltà Da due animali Uniti dal comune gioco Il Presidente Nelson ha insegnato Venite a Cristo per essere aggiogati A Lui e al Suo potere Così come non dobbiate tirare Il carico della vita da soli State tirando il carico della vita Mentre siete aggiogati Al Salvatore e Redentore del mondo Come ci aggioghiamo O leghiamo al Salvatore? L'anziano Bednar spiega Quando stringiamo Teniamo fede ed alleanze sacre Ci leghiamo al Signore Gesù Cristo E condividiamo il gioco con Lui In sostanza Il Salvatore ci invita a fidarci di Lui E a tirare insieme a Lui Non siamo soli E non c'è bisogno di esserlo Chiunque sia oppresso Perduto, confuso Sappia che non deve affrontarlo da solo Mediante l'espiazione di Cristo E le Sue ordinanze Potete essere aggiogati e legati a Lui Egli vi darà amorevolmente La forza e la cura Di cui avete bisogno Per affrontare il viaggio che vi aspetta Egli è il rifugio dalle nostre tempeste Sempre Terzo, l'amore del Padre Celeste Per la cronaca Jasper è arguto Affettuoso Intelligente E vivace Ma la cosa importante di questa storia È che è mio È mio figlio E lo amo Più di quanto Lui possa mai sapere Se un padre è imperfetto e terreno Prova questi sentimenti verso suo figlio Potete immaginare cosa provi per voi Un Padre Celeste perfetto Glorificato e amorevole Mi rivolgo ai miei cari amici Della generazione emergente Generazione Z e generazione Alfa Vi prego Sappiate che la fede richiede lavoro Viviamo in un'epoca in cui per molti Vale solo il vedere per credere La fede può mettere alla prova E richiede scelte Ma le preghiere ricevono risposta E le risposte si possono sentire Alcune delle cose più reali nella vita Non si possono vedere Si possono sentire Conoscere e sperimentare Sono reali lo stesso Gesù Cristo vuole che conosciate il Padre in cielo E che abbiate un rapporto con Lui Egli insegnò Quale uomo tra di voi Avendo un figlio che sia fuori dalla porta E che dica Padre apri la tua casa Finché io possa entrare e cenare con te Non dirà Entra figlio mio Poiché ciò che è mio è tuo E ciò che è tuo è mio Potete immaginare una raffigurazione Più personale e amorevole Di Dio Padre Eterno? Voi siete i Suoi figli Se vi sentite perduti Se avete domande O mancanze di sapienza Se state faticando con le vostre circostanze O combattendo con una dissonanza spirituale Volgetevi a Lui Pregatelo per ricevere conforto Amore Risposte E direzione Quale che sia il bisogno E ovunque vi troviate Aprite il cuore al vostro Padre Celeste Alcuni di voi potreste seguire l'invito del Presidente Nelson Chiedetegli se esiste davvero Se vi conosce Chiedetegli quali sentimenti prova per voi E poi Ascoltate Cari fratelli e sorelle Conoscete il vostro Padre in cielo Egli è perfetto e amorevole Scoprite chi è Gesù Cristo Egli è il nostro Salvatore e Redentore Legate voi stessi E coloro che amate A Lui E scoprite chi siete Scoprite la vostra vera identità divina Il piano di felicità di Dio È tutto incentrato su di voi Voi siete i Suoi preziosi figli di gran valore Egli vi conosce e vi ama Di queste verità semplici ma fondamentali Rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo Amen Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio E per la splendida musica che è stata offerta Vi ricordiamo la sessione generale del sabato sera Che verrà trasmessa dal centro delle conferenze Questa sera alle 18 Ora di Salt Lake City La trasmissione La Parola e la Musica Andrà in onda domani mattina Dalle 9.30 alle 10 Ora di Salt Lake City Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza Il nostro ultimo oratore per questa sessione Sarà l'anziano Ronald A. Rasband Del quorum dei dodici apostoli Dopo il suo intervento Il coro intonerà Lode all'altissimo La preghiera di chiusura Sarà offerta Dalla sorella Andrea M. Spanos La quale serve come seconda consigliera Della presidenza generale delle giovani donne Mi cari fratelli e sorelle Il mio pensiero oggi è rivolto al raduno di Israele Quello di cui il presidente Russ Nesson dice È la cosa più importante che sta avvenendo sulla Terra oggi Non c'è nient'altro di altrettanto grande Nient'altro di altrettanto importante Nient'altro di altrettanto maestoso Il raduno è il riconoscimento supremo del fatto Che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio È davvero così semplice Stiamo radunando i figli di Dio in questi ultimi giorni Affinché le benedizioni siano riversate sul loro capo E abbiano la promessa delle ricchezze dell'eternità Ne consegue che per radunare Israele Abbiamo bisogno di missionari Molti di più di quanti stanno servendo Oggi mi rivolgo ai molti membri della Chiesa in là con gli anni Che potrebbero servire come missionari Il Signore ha bisogno di voi Abbiamo bisogno di voi a New York e a Chicago In Australia e in Africa In Thailandia e in Messico E in ogni altro luogo Lasciate che vi riporti al 2015 Ero appena stato chiamato a far parte del quorum dei dodici apostoli Una delle meravigliose responsabilità che abbiamo come apostoli È quella di assegnare i missionari ai rispettivi campi di missione Avevo partecipato al processo come 70 Ma ora, come apostolo, sentivo tutto il peso di quell'incarico In spirito di preghiera Ho cominciato ad assegnare un gran numero di giovani, anziani e sorelle Uno per uno Nelle missioni di tutto il mondo Poi è stata la volta delle coppie senior Nell'elenco ce n'erano dieci Non tantissime Sorpreso, ho chiesto al mio collaboratore del Dipartimento Missionario Quante ce ne servono questa settimana per soddisfare le richieste? Ha risposto Trecento Quel momento solenne mi è rimasto impresso Dieci coppie per soddisfare trecento richieste Il Presidente Nelson ha esortato le coppie a inginocchiarsi e chiedere al Padre Celeste Se per loro è il momento giusto di svolgere una missione Tra tutte le qualifiche ha detto La più importante potrebbe essere il desiderio di servire Come dicono le scritture Se avete desiderio di servire Dio Siete chiamati all'opera Tale opera è incentrata sulla legge del raccolto In Giovanni leggiamo Affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme Ho visto la legge del raccordo ad embersi nella mia famiglia Molti anni fa ero andato a trovare la mia famiglia Quando il Vescovo mi ha chiesto di concludere la riunione sacramentale Mentre scendevo dal pulpito mi si è avvicinato una donna con i suoi sette figli E si è presentata come la sorella Rebecca Guzman Mi ha chiesto Anziano Rasband Conosce Ruland Rulone Verda Rasband? Mi sono illuminato E ho risposto Sono i miei genitori Potete già capire il seguito Con il permesso di Rebecca Che è qui con la famiglia nel centro delle conferenze Racconto la storia della sua famiglia I miei genitori L'anziano Rulon e la sorella Verda Rasband Servivano come coppia senior nella missione di Fort Lauderdale, Florida Stavano facendo proselitismo E per guida divina bussarono alla porta della casa di Rebecca Era solo un adolescente E amava ascoltare la musica degli Osmond In particolare del mio amico Donnie Anche lui oggi qui con noi Aveva ascoltato le loro interviste sui media E aveva appreso che erano membri della Chiesa di Gesù Cristo Dei Santi degli ultimi giorni Sentiva che c'era qualcosa di diverso in loro E pensando che potesse essere la loro religione Rebecca passò due anni A fare ricerche sulle credenze della Chiesa Nella biblioteca della scuola Così, quando una coppia dall'aspetto gentile bussò alla porta di casa E si presentò come coppia di missionari santi degli ultimi giorni Fu presa la sprovvista Mia madre mi disse di liberarmi di loro Scrisse in seguito Rebecca Ma il mio cuore diceva no Guardai i loro volti e provai un calore e un amore immensi Il ricordo mi fa ancora venire le lacrime agli occhi E una profonda emozione nel cuore Rebecca li invitò a entrare E i miei genitori missionari presentarono un messaggio a lei Alle sue due sorelle minori E nonostante le sue obiezioni A sua madre Rebecca me lo ha descritto E entrambi i suoi genitori sono stati meravigliosi Ne rispondere a tutte le nostre domande Riesco ancora a vedere il loro volto come se fosse circondato dalla luce Abbracciavamo sempre sua madre quando se ne andava E lei ha sempre fatto in modo che mia madre si sentisse a suo agio e rispettata Suo padre aveva sempre una luce negli occhi Mentre ci parlava di Gesù Cristo Cercò di coinvolgere mio padre nelle conversazioni E alla fine lo conquistò Mio padre era uno chef presso un country club del posto E iniziò a preparare la cena per i suoi genitori Preparando anche la torta al lime La preferita di suo padre Quando l'anziano e la sorella Rasband chiesero a Rebecca E alla sua famiglia di leggere il libro di Mormon Rebecca lo fece in cinque giorni Voleva essere battezzata immediatamente Ma gli altri membri della famiglia non erano pronti Dopo quattro mesi Rebecca insistette per essere battezzata E unirsi alla vera chiesa Racconta Ogni fibra della mia anima Sapeva che era vero Il 5 aprile 1979 I missionari battezzarono la 19enne Rebecca Sua madre E due sorelle Mio padre fu uno dei testimoni al battesimo Quando ho incontrato Rebecca e la sua famiglia in chiesa Abbiamo scattato una fotografia tutti insieme L'ho portata a casa della mia anziana madre E lei l'ha stretta al cuore Poi mi ha detto Ronny Questo è uno dei giorni più felici della mia vita La reazione di mia madre Suscita la domanda per i nostri membri anziani Che cosa state facendo in questa fase della vostra vita? Sono tanti i modi in cui i missionari senior possono fare ciò che nessun altro può fare Siete una forza positiva straordinaria Matura nella chiesa E capace di incoraggiare e soccorrere i figli di Dio Alcuni di voi staranno pensando Ma come si fa a lasciare i nipoti? Ci perderemmo i momenti più importanti della famiglia I compleanni, gli amici E persino gli animali domestici Se avessi chiesto a mia madre perché lei e papà sono andati in missione So che mi avrebbe risposto Ho dei nipoti Voglio che sappiano che io E tuo padre Abbiamo servito sul campo di missione Volevamo dare l'esempio ai nostri posteri E siamo stati benedetti Tanto benedetti Visitando le missioni in tutto il mondo Ho visto il servizio straordinario della nostra schiera di missionari senior È palese che sono felici di fare la volontà del Signore E di occuparsi degli affari del Signore Per alcuni E speriamo per migliaia di voi Il servizio missionario a tempo pieno In un altro angolo del mondo Sarà il posto giusto Per altri Potrebbe essere preferibile svolgere una missione di servizio nella Chiesa a casa A causa di problemi di salute e di altre circostanze Ci sono persone che non possono servire Comprendiamo queste situazioni E spero che possiate trovare il modo di sostenere chi lo sta facendo Seguite il consiglio del profeta E pregate per sapere quello che il Signore vuole che facciate I campi di missione di tutto il mondo invocano il vostro aiuto Il presidente Russell M. Nelson ha detto dei nostri missionari senior Sono giovani nello spirito Saggi e pronti a darsi da fare Sul campo avete un'ampia scelta di opportunità Potete servire negli uffici missionari o nei templi Rafforzare i giovani missionari Sostenere i piccoli rami Lavorare nei centri di storia familiare o nei siti storici Insegnare all'istituto Prestare servizio umanitario Lavorare con i giovani adulti Aiutare nei centri di collocamento o nelle fattorie della Chiesa I dettagli sui modi di servire Su ciò che è più adatto a voi Su dove c'è bisogno di voi E su come potete prepararvi a partire Sono descritti nel sito internet Missionari senior Potete anche parlarne con il vostro vescovo O presidente di ramo Ho chiamato molte coppie a servire E ho visto come la luce di Cristo ha illuminato il loro volto Al loro ritorno Hanno descritto di essersi avvicinati ulteriormente al Signore E l'uno all'altra Di aver sentito lo spirito del Signore Di versarsi su di loro e di sapere che stanno facendo la differenza Chi non lo vorrebbe? Una missione potrebbe essere il capitolo più bello della vita di una coppia Un buon titolo potrebbe essere Egli ha bisogno di me È possibile che vi troviate su un terreno poco familiare Ma il potere dello Spirito vi farà sentire a casa I miei genitori e decine di migliaia di coppie missionarie ritornate Hanno reso testimonianza della gioia Che hanno provato nell'opera missionaria Nelle scritture degli ultimi giorni Il Signore dice Esaia ci fornisce una descrizione poetica di ciò che significa servire sul campo di missione Le scritture ci dicono che il campo è il mondo Questo grande profeta antico ha scritto Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace I monti e i colli daranno in grida di gioia dinanzi a voi E tutti gli alberi della campagna batteranno le mani Le montagne, le colline, i campi e gli alberi Possono essere paragonati ai presidenti di missione Ai vescovi, ai dirigenti di distretto, ai membri E coloro che cercano la verità ma non sanno dove trovarla Attesteranno che i missionari senior cambiano il paesaggio stesso Con la loro testimonianza del nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo In qualità di apostolo del Signore Gesù Cristo Vi chiedo di servire come missionari nel raduno ad Israele E magari di servire ancora Abbiamo bisogno di voi Abbiamo bisogno di voi Siamo grati a voi membri anziani per la vita che avete condotto E per l'esempio che siete stati in casa Nei rioni e nei pali Vi invito ora a prendere il vostro sapere Unito alla vostra venerabile testimonianza E ad andare in missione Prego affinché la prossima volta che mi siederò per assegnare le coppie senior Ci saranno centinaia di voi in trepidante attesa della propria chiamata Vi prometto anche che Mentre servirete Proverete l'amore del Signore nella vostra vita Lo conoscerete Egli vi conoscerà E quanto sarà grande la vostra gioia Il vostro servizio devoto a Gesù Cristo Ispirerà e benedirà la vostra famiglia I vostri nipoti e i vostri pronipoti Pace e carità saranno moltiplicate Nella loro vita per gli anni a venire Lo prometto Nell'uomo di Gesù Cristo Amen Praise to the Lord For the Almighty The King of creation O my soul Praise Him For He is Thy help and salvation Join the great throng Sovereign And song Sounding in glad adoration Praise to the Lord Praise to the Lord For all things He gloriously reigned Born as all ye the wings Safely His saints He sustained Amen Has thou not seen All of the beedest hath been Prancing what He ordained Praise to the Lord For all things He did Prosper thy way And defend be Surely his goodness and mercy shall never attend thee Father on you, what the almighty can do Who with his love thou be friendly Praise to the Lord, O let all that is in me adore him All that have bread, turn with Abraham Seek to adore him Let thee amend some other praises again Now as we worship before him Now as we worship before him Now as we worship upon him di essere riuniti insieme in amore e in unità con i nostri amici in tutto il mondo, per l'opportunità di ascoltare e essere guidati da profeti, i tuoi servitori. Ti ringraziamo Padre per Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, che rende ogni cosa possibile nelle nostre vite. Padre, ti chiediamo per favore di darci occhi che vedono e che non che capiscono cosa dobbiamo fare per trasformare i nostri cuori e per servirti in modo migliore. Ti amiamo, caro Padre, e non vediamo l'ora di essere con te un giorno. Ti chiediamo che tu possa proteggere il nostro amato profeta e anche il Presidente Holland e questo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.